Musica Cari amiche e cari amici di Rossini TV, bentornati al salotto di Fisioradi Medical Center, la nostra trasmissione Check-up Obiettivo Salute, giunto al terzo anno, questa sera abbiamo graditissimo ospite che è tornato anche quest'anno per parlare con noi, il dottor Antonio Padolino. Dottore, buonasera. Buonasera, buonasera a te e buonasera a tutti i telespettatori. Dottore, siamo qui quindi per parlare di tante cose, ovviamente ci concentreremo sulla materia medica che è il motivo per il quale l'intervistiamo, uno dei massimi conoscitori a livello nazionale per quello che riguarda la spalla, la chirurgia della spalla, le conseguenze degli interventi e soprattutto i percorsi anche di guarigione della spalla. Il dottor Padolino, considerate che è membro di tre società scientifiche, sia SIX&G, Società Italiana, Chirurgia della Spalla e del Gomito, Secek, che è la corrispondente società europea, e in più la SIO, Società Italiana Ortopedia e Traumatologia. Dottore, una grande passione per la spalla che nasce in quale modo? Allora, nasce da tanto tempo, cioè da quando ero già studente in medicina, poi in specializzazione, ho fatto una specializzazione a Pavia, molto incentrata sul ginocchio col professor Benazzo, però io mi sono sempre ricavato un pochettino la parte della spalla, coltivata anche in Guadalupe, sono stato in Guadalupe sei mesi, da un collega italiano che faceva spalla e quindi lì è venuta tutta, poi sono approdato alla corte del professor Porcellini, che adesso ovviamente è diventata la corte del dottor Paladini, però sono sempre stato appassionato di spalla. Quindi approdato nel vero senso della parola da Guadalupe, dalla Guadalupe, sono tornato, passando per Pavia, poi sono arrivato in Romagna, a Cattolica. Sì, il dottor Padolino infatti è a Cattolica, è davvero uno dei massimi conoscitori, l'abbiamo già detto, e soprattutto per quello che riguarda la spalla, ne abbiamo parlato in altre occasioni, noi facciamo riferimento a quella che forse è l'articolazione più utilizzata dall'uomo nel corso della sua vita. Assolutamente sì, già dall'evoluzione, prima era una articolazione di carico, poi è passata una articolazione in sospensione, è la più mobile del corpo umano, è la più instabile, tra virgolette, perché ha bisogno di tanta forza per rimanere centrata e quindi non fuoriuscire nei suoi movimenti, quindi un'articolazione abbastanza complessa dal punto di vista biomeccanico, quindi anche la parte, siamo qui da Maurizio Lati, ovviamente la parte riabilitativa è molto importante, sia quando si ha un trauma, sia quando si subisce un intervento chirurgico, e forse più, senza volerne colleghi, forse più dei di altri, tipo ginocchio, anca, la spalla ha bisogno proprio di una biomeccanica particolare, quindi di una riabilitazione abbastanza complessa. L'ha nominata già due volte la parola biomeccanica, ha fatto un master in biomeccanica, in cosa consiste esattamente? Allora, il master, diciamo, per tutti quelli che si occupano di spalla, è fondamentale perché si vanno a toccare quegli aspetti che non si toccano in scuola di specializzazione o quando si va, diciamo, nei vari corsi, perché si lavora anche a livello di propriocezione, a livello di laboratorio di biomeccanica, noi a Cattolica abbiamo un laboratorio di biomeccanica dove studiamo la cinematica del movimento, quindi si approfondiscono tutti quei temi che vanno a stimolare la curiosità anche del chirurgo e quindi del paziente. Ma per biomeccanica cosa si intende? Cioè, la meccanica biologica, cioè praticamente come si muove la spalla nello spazio andando a, come posso dire, rispettare alcuni vettori di forza che vanno poi a, scusate. E da qui si capisce quanto è importante, tante volte si dice nel percorso di studi di un medico, quanto siano importanti materie tipo fisica, matematica, che apparentemente potrebbero essere astratte o astruse dal percorso di biochimica, di medicina, di fisiologia, di farmacologia, patologie e via dicendo, e invece ne fanno parte. Invece sì, poi sono molto utili per questo tipo di percorso, per questo tipo di approccio alla spalla, come capire la spalla, non solo nelle patologie, e non solo con la parte radiologica, o la parte di visita, ma proprio come incentrare anche un percorso riabilitativo. Esatto. Veniamo a noi, dottore. Quando succedono dei problemi alla spalla, possono essere di varia natura, traumatica, posturale, c'è l'usura del tempo, ma come si affronta una patologia della spalla? Cioè, come dobbiamo porci di fronte a un dolore alla spalla nel momento in cui insorge? Allora, sicuramente il dolore alla spalla è uno dei più comuni che c'è. Molti pazienti arrivano, si rivolgono spesso al fisioterapista, il fisioterapista fa qualcosa per cercare anche di capire quale può essere l'indirizzo di quella tipo di patologia, perché alcune volte sono delle infiammazioni che poi passano col tempo, altre volte invece va capito se va indirizzato il paziente allo specialista, all'ortopedico, per andare a incentrare il percorso sia riabilitativo, ma capire se c'è qualcosa di chirurgico da fare in quella spalla. Quindi si eseguiranno gli esami diagnostici, si eseguirà la risonanza, la radiografia, l'ecografia, cioè tutti quegli esami che vanno a farci capire se c'è un problema reale a quella spalla o se è solo un problema biomeccanico. Biomeccanico magari anche contingente, quindi che può derivare da infiammazioni, può derivare anche, l'abbiamo detto, dall'usura dell'età. Assolutamente sì, assolutamente sì. Per quanto riguarda gli esami è sempre bene chiedere un po' allo specialista prima di fare esami, magari risonanza subito, molti vengono con la risonanza magnetica fatta subito, ma a volte un'ecografia, una radiografia fatta bene in alcune proiezioni possono bastare, essere sufficienti per iniziare a fare la prima diagnosi e con la visita poi si incentra il percorso del paziente. Esatto, e questo percorso poi si divide in percorso mirato magari alla chirurgia e percorso mirato alla riabilitazione. Ci spieghi un po' queste due fasi? Allora, la fase, diciamo, chirurgica, io l'ortopedico, lo dico, quindi l'ortopedico-chirurgo, è sempre un po' il termine del percorso della spalla perché, come dico io, non si torna più indietro dalla chirurgia. La prima parte riabilitativa di approccio al paziente ci fa capire se il paziente potrà andare verso la direzione chirurgica o può rimanere nel percorso riabilitativo. Quindi, lo dico contro il mio interesse, la parte chirurgica è sempre un po' l'ultima che bisogna pensare, a meno che non c'è un trauma, non c'è una frattura, e vabbè, lì si parla di cose diverse, ma in traumi della spalla che portano ad esempio a instabilità, traumi che portano a lesioni tendine anche da usura, su base usurante, lì allora bisogna stare un po' cauti con la chirurgia e la terapia riabilitativa, la terapia fisica, la terapia infiltrativa possono essere di grande aiuto per il paziente. Quando l'ha detto, l'ha accennato, però non ha usato una parola che noi tante volte associamo alla spalla, cosa significa lussazione della spalla? Allora, lussazione è la perdita completa dei rapporti, questa è la definizione, glenomerati, cioè tra la testa dell'omero e la glenoide, che fa parte della scapola. Quindi si ha una perdita completa dei rapporti e c'è bisogno o di una riduzione manuale o c'è a volte anche un'autoriduzione da parte del paziente per riportare questi rapporti. In questo episodio di lussazione si possono creare dei danni a livello delle componenti capsulari, ci può essere un danno capsulare, a livello del cercine, così famoso, quando si rompe il cercine tutti sanno che una lussazione ci può essere, o quando si rompono i tendini della cui ferrotatori, quando si hanno lussazioni in pazienti più avanti con l'età, o quando si hanno danni cartilaginei, che sono altrettanto importanti, un po' sottovalutati, ma importanti perché possono portare a un discorso atrosico in futuro. Quando si rompe questo equilibrio nella spalla c'è qualcosa da fare, minimo la parte iniziale della riabilitazione, cioè portare la spalla al pre, quindi a prima dell'episodio di lussazione, quindi con la stabilità a prima dell'episodio, con gli esercizi di rinforzo, proprio scettivi, in acqua, quindi tutto un percorso riabilitativo. Se invece c'è un danno al cercine, alla cartilagine e in varie facilità, si può andare direttamente anche all'intervento chirurgico, perché si è visto in letteratura che c'è un rischio troppo alto di recidiva, di lussazione, cioè si ripete la lussazione e quindi di aumento del danno. Quindi a volte, adesso, ultimamente, stiamo andando più verso una parte chirurgica nel primo episodio nei giovani, perché si è visto che nei molto giovani, sotto i 18 anni, il rischio di recidiva, anche con una fisioterapia perfetta, è troppo alto, è oltre il 50%, allora si preferisce andare a stabilizzare subito per evitare i rischi futuri. E quindi la lussazione, comunque, in genere, è sempre conseguenza di un trauma? È sempre, di solito, il primo episodio, di solito, è un trauma. Un trauma che non deve essere inteso come una caduta dall'alto, può essere anche un trauma in allungamento, un trauma distrattivo, scivolando dalle scale, classico, scivolando dalle scale uno si tiene a corrimano e si lussa la spalla e può essere su base traumatica oppure su base già di un paziente iper elastico, iper lasso, si dice. Cioè un paziente iper elastico a volte anche con un movimento che nella media delle persone non causerebbe una lussazione può causare una lussazione e quelli sono un po' più quelli complicati da trattare. Chiaro, anche qui c'è la soggettività dell'individuo, chi può essere più o meno sensibile e invece la frattura della spalla è un'altra cosa. La frattura, sì, è il trauma che per, diciamo, si ha un'interruzione delle corticali osse che può dipendere dall'omero, dalla glenoide, quindi sempre queste due parti della scapola e lì, anche lì, non è che quando uno ha una frattura bisogna operare sempre. Ci sono delle fratture, ad esempio, nei pazienti più anziani di omero prossimale che magari non meritano un trattamento chirurgico e quindi sono un trattamento riabilitativo. Quindi è un mare magnum, quindi la scelta del trattamento è abbastanza complesso. Quindi negli anni l'abbiamo studiato tanto e ancora ci fa studiare perché altrimenti non andremo ai congressi, non andremo... Certo. Ai congressi di cui parlavamo prima di cominciare questa chiacchierata col dottore, congressi che lei ne ha svolti tantissimi come relatore, come ascoltatore, insomma, quindi io ho letto un po' il suo curriculum, mi sono reso conto che è davvero lunghissimo. Tantissime partecipazioni, tantissimi articoli scientifici, tantissime anche le sue relazioni svolte in occasione dei convegni a dimostrazione di quanto sia essenziale aggiornarsi costantemente. Sempre. Adesso abbiamo fatto l'ultimo congresso nazionale della 6NG proprio a Riccione, siamo proprio in casa e lì anche si è parlato di tante novità. C'è sempre qualcosa e poi confronto con i colleghi, anche più anziani, con le novità dei più giovani, cioè è importante questo scambio di idee e di letteratura per portare al paziente le novità, le cose più recenti. Secondo lei, a grandi linee, è una domanda così che mi viene spontanea, i nuovi programmi di intelligenza artificiale potranno avere una loro importanza nel percorso sempre più importante di cura della spalla? Assolutamente, c'è stata proprio una sessione sull'intelligenza artificiale e sulla preparazione del medico con l'intelligenza artificiale che va a sostituire un po' il vecchio libro che a noi piace perché ti proietta già in una dimensione, nel metaverso, ci sono tante cose oltre all'intelligenza artificiale facciamo tutto fa parte dell'intelligenza artificiale però poi ci sono anche le strutture del metaverso che ti fanno allenare come se fossi in sala operatoria sul paziente e quindi ti fanno progredire le tue skills, le tue capacità e quindi questa è una cosa molto interessante sicuramente ci aiuterà soprattutto adesso ci sta aiutando nella parte protesica perché i planning preoperatori sono molto più precisi sono fatti a computer tutto con studio con la TAC noi chiediamo sempre la TAC prima della protesi anche per questo quindi tutto e poi stimola andare avanti anche ai giovani altrimenti l'ottopedia rimarrebbe ferma un pochettino ai canoni vecchi certo ma quindi dice che i prossimi anni quei grandi tomi di patologia di fisiologia di biochimica di anatomia saranno comunque fisicamente presenti negli studi dei medici comunque sì diciamo un po' come allora per la medicina uno quando studia medicina e quant'altro il libro nella parte iper specialistica c'è io ce ne ho tanti perché mi piace tenerli in libreria però se devo dire quando mi aggiorno mi aggiorno sulla parte internet sui vari programmi sugli studi appena usciti quindi poi quelli rimangono come bagaglio culturale però per l'aggiornamento poi c'è tutto questo in più complesa l'intelligenza artificiale il metaverso e quant'altro dottore ha accennato la questione chiaramente ho fatto un rimando ai libri perché? perché parlavamo prima una delle sue grandi passioni è la letteratura quindi avrà la casa piena di libri oltre che di quelli specialistici per la sua professione credo anche tanti altri perché mi diceva di essere un grande appassionato di lettura sì quando ho tempo libero lo dedico un po' alla lettura anche soprattutto l'estate quando arriva mi piace leggere mi piace nei viaggi portare sempre un libro non sempre riesco a leggerli tutti li tengo lì però la libreria per me è fondamentale quindi piace ancora il libro cartaceo non l'ebook non l'ebook che piace un libro cartaceo da sfogliare da tenere e come dicevamo prima anche il dottore è un fautore della teoria che i libri si comprano e anche se non si leggono lì per lì prima o poi si leggeranno assolutamente sì nella mia libreria ci sono tanti libri ancora non letti che però quando li vedi ti viene voglia di cominciarli insomma ecco e quindi prima o poi si leggeranno d'altronde lo diceva il grande Umberto Eco che l'importante più che altro è averli quei libri nella biblioteca quando glielo chiedevano ma lei li ha letti tutti lui diceva assolutamente no perché è impossibile certo oltretutto il dottore ha famiglia figli quindi tanti impegni che noi li abbiamo fatto anche come battuta avendo letto il suo curriculum con la sua attività veramente a 360 gradi nel campo della chirurgia ortopedica sulla spalla gli abbiamo anche detto ma un po' di tempo per lei dottore ce l'ha ci ha già fatto capire di sì perché comunque d'estate e magari non solo d'estate lo trova sì sì assolutamente o anche la sera io arrivo un po' fino a tardi prima di andare a letto e quindi magari un paio d'ore la sera ce le tengo per menso grazie dottore è stato davvero molto molto interessante parlare con lei anche quest'anno la ringraziamo per le spiegazioni che ci ha dato e per averci mostrato questo suo lato umano così stimolante grazie mille grazie a tutti e alla prossima al prossimo anno grazie grazie al dottor Padolino grazie anche a voi per averci seguiti appuntamento a lunedì prossimo con Check Up Obiettivo Salute grazie a tutti 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 grazie a tutti